Sapevate che circa il 71% della superficie terrestre è coperta da oceani? Sì, lo sapevate. Però non sapevate che un terzo della grande barriera corallina è morta a causa dell'aumento delle temperature? Ah, sapevate pure questo. E allora non sapevate che per salvaguardare i coralli sono stati creati dei veri e propri vivai sott'acqua. Gli oceani producono il 70% dell'ossigeno che respiriamo. Ma sapevate pure questo. E allora vi dico che al centro dell'oceano Pacifico si trova una vera e propria isola di plastica. Sì, sì, lo so, questo lo sapevate. Ma non sapevate forse che quest'isola è grande il doppio degli Stati Uniti? Ma se siete così sapientoni, allora sapevate che i pesci del nord del Pacifico ingiriscono globalmente tra le 12 e le 24.000 tonnellate di plastica immersa nei mari. Inoltre, e sapevate pure, che i materiali di scarico che riversiamo negli oceani alimentano la crescita incontrollata di alghe che, decomponendosi, consumano ossigeno e danno origine ad aree prive di vita, dove gli organismi viventi non hanno gas da respirare. Ma se questo non lo sapevate, non sapevate neanche che in tutto il mondo le specie di squalo sono più di 465. Tuttavia ogni anno sono più di 100 milioni di squali che muoiono a causa dell'uomo. E se sapevate tutte queste cose sull'oceano, allora sapevate sicuramente tutto ciò che riguardava il Mar Mediterraneo. Per esempio, il 33% degli habitat marini italiani di interesse comunitario presenta uno stato di conservazione inadeguato a causa delle elevate oppressioni cui sono soggetti mari e coste italiane. Inutile dirvi che anni di pesca eccessiva hanno reso il Mediterraneo il mare più sfruttato al mondo. Se sapevate tutto questo, non vi dirò di non comprare pesce, o neanche di non consumare prodotti di plastica, ma quantomeno se sapevate tutto, ricordatevelo.